Allora, Tier List, fiere del fumetto a cui sono andato. Sotto a tutto, Romics, OCS, mi dispiace. È tutto chiuso, è tutto stretto, non hai proprio tempo e spazio per vivere. Milano Games Week, grande la location, però potrebbe dare di più ma non si impegna. Lucca Comics, perché comunque è figo il fatto che un'intera città, purtroppo quando è troppo piena, è un casino, cioè veramente tu non riesci a camminare, non riesci a vivere. E soprattutto comico. Io lo dico ragazzi, non è soltanto una questione di campanilismo. Una delle location più fighe per fare una fiera di questo tipo. Cioè c'hai il giardino d'entrata, poi c'hai tutte le zone laterali, tu puoi sedere sull'erba, magari prendi una cosa da mangiare, il classico ramen che ti vendono a 80 euro. C'hai una serie di cose da fare, cammini un po'. Il comico è la sintesi perfetta, è la crassi di tutto, è l'unione celeste delle migliori menti dietro le fiere dei fumetti. Incredibile.